buongiorno eccoci questo look da scappata di casa già da lunedì promette una settimana molto interessante ma tanto voi siete abituati io non mi formalizzo sì ho la maglia di lana si fuori si sta molto meglio che dentro avevo freddo poi sono uscita a fare due acquisti fuori ci sono 21 gradi oppure la fascia riscaldante per la schiena e la cattorcitudine per oggi ce la siamo degnamente meritata buongiorno ben arrivati adesso vi racconto cosa è arrivato anche cosa non è arrivato perché opla scusate c'era una telefonata che cercava di entrare mi hanno lasciato a secco di uno dei colli di cocoa vanilla insomma rimedieranno domani mi auguro anche perché mancano un sacco di cose io mi ero già stampata io un po di ordini da smistare e no non è arrivata e vabbè buongiorno vorrei che ci facessero una saga tv le spedizioni spezzettate della che sicuramente non sono l'unica ad avere le spedizioni spezzettate però sul numero sono tante ben arrivati oggi una bellissima giornata d'autunno io la mia schiena non siamo andati a fare una passeggiata ben arrivati allora noi stiamo ancora navigando negli ordini del weekend ci vorrà come al solito qualche giorno domani mattina sarò da sola quindi non riuscirò a farne tantissimi abbiate pazienza per questo piccolo rallentamento e poi domani se ups insomma ci porta il collo che manca di di cocoa mi metto a smistare le due collezioni di cocoa che sono meravigliose cioè io nel contempo siccome da quando abbiamo fatto da quando abbiamo fatto il preordine a quando hanno preparato l'ordine hanno spedito la spedizione arrivata sono arrivati tantissimi ordini quindi non abbiamo più tantissimi pezzi quantomeno della collezione di di natale e sono un po' crucciata sono un po' contrita perché la collezione è meravigliosa quindi oltre a volerci fare qualcosa che sia un layout che sia un albumino non lo so sicuramente deve finire nel mio dicember daily quindi credo che mi toccherà fare un piccolo ordine di reintegro che di solito dall'australia non facciamo mai perché sia i tempi di spedizione che i costi non sono esattamente splendidi però questa collezione bellissima quindi non so penso che sarete d'accordo con me e poi vi dovrò sondaggiare su una serie di cose nei prossimi giorni perché nel weekend ho fatto un po di compiti e ho bisogno poi insomma della seduta plenaria del salottino davanti a un tè con i biscotti o un pumpkin spice se lo trovate e ragioniamo un attimo sulle cose da fare buongiorno ben arrivati io oggi ho lisciato i capelli in una maniera diversa sembro un po' scappata di casa ma va bene non importa allora dunque sono arrivate parte delle nuove uscite di spellbinders non ho preso tutta tutta la lista alcune cose non mi sembravano particolarmente entusiasmanti se non le vedete fateci richieste le facciamo arrivare non mi sembravano particolarmente entusiasmanti rispetto a spellbinders non si dice in realtà mi toglieranno i prodotti però mi sembravano poco d'appeal per come facciamo scrap noi qua se vi piacciono ne le portiamo la prossima uscita contiene le fustelle che tagliano il panno io credo che non appena ci daranno l'ok le metteremo in preordine così potrete decidere se vi interessano o meno sono deliziosi io sto cercando di capire se si possono usare anche senza fare le cuciture intorno perché hanno tutti i forellini quindi per me che non faccio questo tipo di come le uso ma che sono bellissime hanno un sacco di animaletti meravigliosi quindi stai riscrivendo le misure dell'album di sabato grazie rosanna preziosa vai ad un pumpkin patch che meraviglia noi non siamo ancora riusciti sono due anni che ci proviamo non credo che neanche quest'anno sarà l'anno buono vabbè di farlo ci sono sempre i pumpkin patch anche il prossimo anno quindi confido lo dico sempre il prossimo anno spero di avere un po più tempo per me stessa cercherò di ritagliarmelo e poi puntualmente a questi buoni propositi rimangono nell'albumino vabbè buongiorno allora dunque dicevo spellbinders adesso vi faccio vedere flori legge in viaggio adesso controllo se c'è un aggiornamento del trekking io spero sarei tanto 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 contenta se arrivassero domani ma non ci sono aggiornamenti per ora quindi vuotre colì speriamo che ce lo portino domani sarebbe bello averli per la proprio per la release all and create l'uscita è il 18 poi credo di aver intravisto nelle notifiche elisa che mi diceva che ha caricato i preordini di mintai c'ero anche gira adesso guardo solo se dovrebbero essere online allora le collezioni sono mi sembra 4 sono online questa volta da questa volta in poi ci hanno autorizzato a caricare i preordini ciao amore mio vuoi farti vedere un secondo dalle zie che sei tanto tanto bellino tu guarda amore dove si è andato dove si è andato che hai le zampine bagnate dove si è andato amore buongiorno e sta sta un sacco fermo un gattino tranquillo sì 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 dunque da questa volta ci autorizzano a caricare i preordini vale a dire che contemporaneamente al periodo di tempo in cui possiamo fare noi preordini possiamo anche pensare di proporle ai clienti quindi li abbiamo caricati li chiuderemo ad un certo punto noi abbiamo tempo adesso non ricordo più le date però vi avviso e poi ovviamente io un po di più per ciascun articolo prenderò però il grosso deve essere ovviamente corrisponderà ai numeri che 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 ordinerete manco a dirlo le collezioni sono meravigliose sono quattro adesso poi ve lo dico anche nel nei social e nei reminder manderò la newsletter insomma sono accademia l'alabai l'alabai jane l'alabai jane scusate ma gli occhiali poi by the lake e l'ultima see you in paris see you in paris lui fa così mi cammina davanti tutto il tempo fa ordini camminando sulla tastiera stamattina ha inceppato la stampante comunque sono una donna felice amore guarda che se questi li fai cadere è un problema vuoi venire in braccio? vuoi venire in braccio? stai buonino mentre faccio vedere le cose nuove? così non puoi stare amore decidi bravissimo qui dietro no niente recupereremo l'intercapedine dello scaffale prima o poi gli peserà il sederino e non riuscirà a farle queste cose Sirius non riesce più anche Sirius non ci ha mai riuscito da quando ci conosciamo però vabbè adesso poi lo rivedremo sbucare in mezzo a quelle cose lì non vi spaventate è solo un gattino monello allora dunque adesso andiamo con ordine collezioni di mintai la data di spedizione è prevista per fine ottobre quindi secondo me li avremo a inizio novembre intanto cominciate a prenotare quello che vi interessa poi dopodiché io un pochino di più rispetto agli ordini arrivati prenderò però ovviamente mi atterrò a quelli che sono i gusti espressi durante il preordine quindi l'invito è a prenotateli così da darmi le indicazioni insomma così da non rimanere senza le collezioni sono tutte quante belle ma cosa ve lo dico a fare non me ne aspettavo quattro in questo periodo ma le cose di mintai a noi piacciono sempre quindi insomma io sono molto contenta e se non erro adesso le sfoglio un secondo ci sono anche dei prodotti nuovi nuovi in mdf che però forse adesso non vedo o forse non ha fatto in tempo a caricarli ma vediamo forse mi sto confondendo no no forse non ci sono ancora scusate poi le chiedo perché avrebbero dovuto esserci delle cose in mdf arrivo eh controllo solo questa cosa perché se poi mancano la sistemiamo domani non vi preoccupate allora vediamo un attimo andiamo all'ultima pagina che allora scusate che chiedo un attimo ma secondo me non aveva ancora finito quando io ho annunciato queste cose allora vediamo un attimo arrivo eh dunque se mancano poi magari semplicemente non ha finito portate pazienza io ho visto una notifica e probabilmente però ho preso fischi per fiaschi però ci sono delle cose nuove in mdf che sono dei prodotti tridimensionali che fanno degli home decor che loro hanno presentato che secondo me sono deliziosi e che quindi poi vi metteremo in preordine anche quelli esatto esatto fantasmagorici sì 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 ma secondo me non l'aveva finito Elisa io mi sono fatta prendere dall'entusiasmo scusatemi un secondo che l'mdf è un compensato è un compensato leggero queste sono praticamente dei pretagliati in questo compensato leggero che si incastano si assemblano e ci fanno creare numerosi c'è una slitta adesso non ricordo più di preciso c'è una slitta un armadio c'è la lanterna c'è la serra io quando vedremo le le creazioni di di Monica saranno da disarticolazione della mascella aspettate che scrivo ancora un secondo no ok non aveva ancora finito Elisa io vi chiedo scusa ma mi sono fatta prendere dell'entusiasmo perdonatemi arrivo subito ok no rassicuro che mi sono solo fatta prendere un attimo dell'entusiasmo di nuovo in ospedale che cosa succede? non stai tanto bene spero nulla di grave spero che ti riprenda prestissimo ti abbracciamo forte ma noi qui nel salottino siamo sempre pronti se vuoi a distrarti con un sacco di cretinati io farei la cretinetta sono piuttosto brava se vuoi ti mando Ron così se vuoi farti distruggere due tende allora intanto partiamo dal resto che così do il tempo a quella parola donna che sto stocherizzando ah giustamente aspettate scusate mi ha scritto che di quelli non sappiamo non li ha caricati per un motivo li carichiamo domani allora arrivo eh perfetto li carichiamo domani perché non sappiamo in effetti il prezzo di vendita allora partiamo scusate queste cose in progress partiamo dagli arrivi di Spellbind allora innanzitutto sono arrivati tre ink della Orton che vi faccio vedere che sono questi qua sono gli ink matt che erano finiti voilà è così poi ieri o ieri o stamattina non ricordo più ho ordinato tutti gli ink interferenziali della Orton che sono riusciti a trovare tra i reintegri che sono tornati disponibili in questi giorni quindi in realtà arriverà un ordine fatto unicamente dagli ink interferenziali che non sono ancora mai arrivati in negozio e che quindi sono delle novità non sono ancora scusatemi sono i rientrati il bianco e i metallici che invece sono i preordini ma dovrebbero arrivare a breve io ho attivato tutti gli alert di questo mondo per essere avvisata quando arrivano quindi tendenzialmente dovremmo riuscire ad averli subito stavo scrivendo a Elisa perché le ho chiesto se l'avevo interrotta a metà mentre stava caricando perché io ho visto delle notifiche e quindi vi ho detto che c'erano i preordini di meantime ma forse lei non aveva finito perché mancano alcuni prodotti o forse non sapevamo i prezzi di alcune cose che sono particolarmente nuove e quindi le ho chiesto portate pazienza il battere sulla tastiera che immagino si sia sentito forte e chiaro allora dunque collezione di Yana Yana ci sta regalando una serie di Better Press plate bellissime fatte con lo sfondo scuro e i fiori che escono ci ha fatto il poppy l'ultima volta che è stata meravigliosa oh mamma mia Antonella in bocca al lupo in bocca al lupo ti aspettiamo presto per fare la cretinetta con noi detto con affetto Better Press Plate che potete usare anche per foilizzare quindi vi foilizza tutta la parte scura questa plate adesso qui non ce l'ho la combo però viene venduta anche in combo con lo stencil che vi permette di colorare i fiori le press per la Better Plate possono essere usate anche per foilizzare non viceversa ma se state notando non stanno più facendo le foil in plate perché non avrebbe senso avere due prodotti che possono essere usati per foilizzare quando ce n'è uno che può essere usato sia per la Better Press che per la foilizzazione poi vado in ordine sparso questo è un Woodland Tales Flower non c'è scritto che cos'è mi sembrava un po' pavero ma no poi Natale guardate che carine sono deliziose sono un sacco di fustelle bannerino belle e questi alberelli vogliamo parlare di questi alberelli sono stupendi sono stupendi semplici semplici in realtà basta avere degli scarti di verde e possono essere declinati in tanti modi casette molto Ikea mi piace tantissimo poi abbiamo un po' di embossing folder ah queste sono di Simon Harley tra l'altro queste ultime che vi ho fatto vedere un po' di embossing folder questo si chiama Fresh Picket Floral Frame ed è una cornice con riflesso purtroppo non si vede tantissimo così è ancora peggio invece questo è uno sfondo di fiori voilà rametti qui c'è anche la fustella questa è di Simon Harley l'anno scorso Simon Harley ha fatto un embossing folder con la fustella della Ponsezia non so se ve lo ricordate quest'anno stessa stessa filosofia ma rametto e con il rametto questi possono gli embossing folder sì certo Patrizia gli embossing folder sì questi qui che sono 3D sono un pochino più spessi degli altri quindi in realtà devi sostituirli proprio questo sostituisce in toto uno dei piatti quindi tu hai nel sandwich normale il blocco l'embossing folder con dentro la carta e poi il piano lo spessore di plexiglass normale uno dei piatti sostituisce in toto perché è un pochino più spesso un po' tanto più spesso per dare proprio l'effetto 3D poi c'è questo effetto 3D legno che non so se ne vogliamo parlare è stupendo bellissimo e queste sono le cose nuove dopo di che vi dicevo ho fatto un ordine appunto di inche interferenziali che arriveranno e sono tutti nuovi e a breve dovremmo poter ordinare e quindi anche mettere in preordine le nuove fustelle il nuovo giro di release di ottobre di Spellbinders che ha tantissime tante fustelle che sono state pensate per essere usate col panno per creare poi quindi delle sagome imbottite che sono cucite tutto sul perimetro infatti hanno tutti i forellini gli animaletti che hanno creato sono meravigliosi quindi io sto cercando un modo se me ne suggerite uno me ne sarei grata di usarle anche non necessariamente cucendoci intorno però quelle ve le metteremo in preordine e sono stupende vi faccio vedere che cosa è arrivato di Cocoa invece manca uno scatolano intero quindi per esempio non ho il pad grande della della Bloom non ho un sacco di abbellimenti quindi non ho potuto smistare niente portate pazienza le collezioni sono due Death the Holes che è quella natalizia che ha una palette estremamente Cocoa Vanilla ma è una palette che a me piace tantissimo io mettete un menta io sono una donna felice è bellissima e io credo che la prenderò prenderò il pad piccolo oppure qualche foglio adesso vediamo per il December Day perché il pad piccolo mi sembra eccessivo però potrei o prendere il pad piccolo e fare un albumino e quindi usare gli avanzi per il December Day o il pad grande e usare comunque gli avanzi per il December Day nel pad grande avete anche il foglio di stickers incluso poi c'è il padino piccolo che è quello che vorrei prendermi che è stupendo adesso ve lo faccio vedere quello piccolo che è un pochino più maneggevole voilà scusate ho risposto una mail cosa vogliamo fare appoggiare il telefono al voilà appoggiare il telefono sul computer aperto mentre si fanno i live è deleterio allora questo è il pad 6x8 ve lo faccio vedere tutto bellissimo è molto oh questa qua è stupenda è molto cocco a vanilla ma se vi piace cocco a vanilla sarete come me con gli occhi a cuore aspettate che ho scorso va bene per il December Daily si si è della stessa misura delle pagine oh che meraviglia questi dovrebbero essere due copie per design quindi a un certo punto dovremmo incrociare il primo disegno il primo pattern oh che meraviglia sono tantissime esatto questa è la metà infatti sono adesso ve lo dico 32 fogli singoli sì perché sono monofacciali quindi hanno le carte singole sono 8 fogli bifacciali quindi voi avete un unico due fogli per che riprendono il fantasia del pad grande per due è bellissimo quindi abbiamo anche la sua copertina e poi ci sono i die cut gli abbellimenti che sono stupendi sono arrivati per lo più quelli della collezione di Natale che adesso vi faccio vedere perché della collezione Bloom credo che sia praticamente tutto in viaggio è in viaggio domani deve arrivare qua domani quindi vediamo un secondo se riesco ad avvicinare Ronnie intanto si è messo a dormire sullo staffale immagino non lo sento più voilà allora dunque questo è il paper pad questi sono i die cut che sono 40 pezzi della collezione Deck the Holes c'è anche una cornice molto grande e se non sbaglio mi sembra che ci siano anche i floral adesso non ricordo più vediamo dal sito perché non essendo arrivato tutto sì ci sono anche dei floral che spero di non aver confuso ah forse li ho messi di là scusate un secondo che forse non sono di questa collezione qui no ah sì sono Deck the Holes sono questi ho sbagliato questi sono i floral della collezione Natalizia che sono 55 pezzi e sono bellissimi anche questi questi li metto qui spero di aver conteggiato bene poi abbiamo i paffi di Natale è una cosa che a me piace tantissimo prima o poi devo farli anche io questi le scrittine paffi dorate e solo foil perché questo qui sbiriluccica due fogli 6x8 bellissimi poi abbiamo il chipboard che sono belli sempre e il foglietto di stickers che vi ho fatto vedere prima è questo qua e questa è la collezione di Natale della collezione di Natale in realtà non ci manca non ci manca nulla e in più ci sono i fogli singoli che non avevamo messo in preordine ma che adesso potete ordinare perché sono caricati mancano praticamente tutti gli abbellimenti della della Bloom e anche le carte singole perché di carte singole ne ho veramente poche speriamo che siano puntuali nella consiglia domani poi vi faccio vedere questo e questo questi sono i day cut della Bloom and Grow che sono 60 pezzi e questo è il paddino piccolo e il pad grande non è ancora pervenuto ma adesso vi faccio vedere questo buonasera ciao Rachele come stai è molto Cocoa ma è meravigliosa io amo tantissimo ci ho fatto alcuni dei miei album preferiti con le carte di Cocoa ho fatto vedere gli arrivi di Spellbinders Rosanna adesso sto facendo vedere quello che mi è arrivato di Cocoa perché c'è uno scatolone non pervenuto che mi consegneranno domani e che contiene però la maggior parte delle cose della collezione Bloom and Grow che è questa che vi sto facendo vedere adesso si c'è una collezione di Natale della Fortinine Market che si chiama Evergreen Season che trovi se sfogli i prodotti della Fortinine non è tra le ultimissime uscite perché dopo quella hanno fatto uscire altre due collezioni forse tre non mi ricordo se la terracotta è uscita da sola però sfogliando i prodotti della collezione Fortinine o se scrivi sul sito Evergreen ti escono fuori i prodotti abbiamo tra l'altro riassortito da pochissimo tutta la collezione il B6 non si rassorta perché non serve quel tipo di corsa lì voilà bellissima e quindi domani mi metterò spero nel plurigio a smistare tutto quello tra l'altro la cosa che mi fa veramente ridere è che veramente se ho una spedizione urgente che viaggia insieme ad una meno urgente 99 su 100 la più urgente arriverà tutta spezzettata non completa e quella non urgente invece arriverà in tutto il suo splendore in tutti i suoi scatoloni perché oggi è successo così mi è arrivato un gaggettino di Halloween che è delizioso poi ve lo faccio vedere che non era però urgente perché non avevo neanche ancora deciso quando regalarlo anche se in realtà Halloween ci sta proprio un po' bussando le porte quindi è il caso che decide meno male che è arrivato non dico che non avrei voluto che arrivasse però avrei avuto che arrivassero tutti e tre i colli dell'altra spedizione e quindi chiaramente non sono stata accontentata e cosa vogliamo farci quindi allora ricapitolando gli arrivi di oggi abbiamo Spellbinders che poi in realtà questi sono di Lisa Horton Liza Horton però li compriamo da Spellbinders che è uno dei distributori e quindi mi viene da collocare all'interno degli arrivi di Spellbinders sono arrivate alcuni dei colori matt sono arrivate le cose nuove di Spellbinders della nuova uscita che ci sono che insomma featuring che annoverano alcune nuove uscite di Simon Harley a brevissimo dovrebbero arrivarci i link interferenziali che non eravamo ancora riusciti a prendere e quindi sono contenta di averli arraffati tutti è arrivata Cocoa in parte e quindi domani smisteremo tutto ma la trovate già a catalogo sul sito con le gecenze aggiornate in caso finisse qualcosa di quello che è rimasto dopo i preordini mi vedrò costretta purtroppo mio malgrado a fare un altro ordine così potrò usare la deck the house quindi mi raccomando fate finire le gecenze che ci sono al sistema così mi sento legittimata a fare un altro ordine per poter avere quella collezione nel mio December Daily perché d'altro canto io ho messo su un negozio per poter avere due bazil di riserva che è la più grande verità di sempre va bene poi mintai termineremo verosimilmente domani di caricare le cose dei preordini perché nelle quattro collezioni che stanno facendo uscire e che vi abbiamo messo in preordine in realtà sono presenti alcuni articoli che non erano prima parte della loro linea ci sono degli MDF quindi dei compensati sottili che ad incastro vi permettono di creare degli elementi 3D che poi possono essere decorati e utilizzati come un decoro e sono meravigliosi c'è quella lanterna stupenda c'è la Serra c'è la Slitter hanno fatto meraviglie esatto Erika mi servono su due bazil e mi è un po' sfuggita di mano la cosa quindi è piuttosto verosimile che io speri che voi facciate finire le cose della collezione The House così posso riordinare i pad e gli abbellimenti e così non rimango senza e per dicembre che ancora tanto in là facciamo in tempo farli tornare e mi renderebbe una donna felice perché è una collezione stupenda lo dico sempre ma a me Coco Vanilla piace sempre tanto quindi rimango coerente del mio assoluto supporto e amore sconsiderato per questi designer quindi dicevo Mintai trovate online l'80% il 90% insomma dei prodotti ordinabili sono 4 nuove collezioni adesso vi ridico anche i nomi che ovviamente di qua ho dimenticato e ovviamente qua mi si è chiuso tutto quindi non lo vedo più però abbiamo Accademia Lala by Jane See You in Paris e By The Lake credo di essermeli ricordati sono tutte belle cosa devo dirvi? ce n'è una che mi piace mi piacciono tutte è difficile è veramente difficile con questi brand è veramente difficile perché comunque Mintai alla fine che cosa ci sforna? ci sforna è sempre tutto molto bello le carte sono un po' delle opere d'arte tant'è che abbiamo tutti i problemi a tagliarle sì è bella cioè è proprio armoniosa di suo Cocoa secondo me ed è vero che è sempre lo stesso mood è sempre lo stesso stile ma è quello che la rende identificabile riconoscibile è un po' come quando Vicky ci fa una release cioè si vede è proprio evidente che è Vicky quindi mi piace anche questa riconoscibilità io sono una donnina banale sono noiosa abitudinaria quindi mi piacciono queste cose che danno consuetudine e tradizione con i binder non ancora nel senso che paradossalmente credo che riusciremo ad avere i 12x12 e gli 8,5x11 per il nuovo anno perché ho trovato un fornitore in Cina che li fa sono in attesa dei campioni e poi vediamo vi aggiorno abbastanza breve hai fatto dei low con Cocoa secondo me sono collezioni che si prestano a tantissime varianti il loro DT fa dei layout meravigliosi usano tantissimo i cut file adesso è un po' che sono i file ritagliati da riempire insomma da mattare con la carta adesso è un po' che non li fanno uscire nella linea dei prodotti il 6x8 per i DD non ho ancora risolto quello è per quello che dicevo paradossalmente ho quasi risolto la parte dei binder più grandi per poterli avere ad un costo ragionevole e non ho risolto il costo ragionevole di quelli piccoli ma ci sto lavorando ci sto pressando vi aggiorno e che altro devo raccontarvi mi sta sfuggendo qualcosa sicuramente vabbè Flori vi aggiorno domani se arriva se non arrivasse domani comunque in realtà si tratterebbe di sicuramente arriverà mercoledì perché l'hanno spedito venerdì quindi dovrebbe arrivare domani arriverà Mintopia collezione nuova che ci ha messo tantissimo tempo perché hanno avuto dei disguidi logistici io mi rincuoro sempre quando capita anche agli altri non sono io la sola a dover dire salve c'è stato di nuovo un problema con le spedizioni abbiate pazienza quindi arriverà e questa settimana arriveranno anche i carciofi di Tim che sono di Natale sono delle fustelle di Natale credo che le spediscano oggi dovrebbero spedirle oggi insieme alle mystery box della 49 che mancavano vediamo se le spediscono per le fustelle sbandolate di Tommy non ci hanno ancora detto nulla ma magari in settimana gli chiedo e che adesso quell'omino lì sarà in preparazione per Vicenza chissà se mi si fila io gli scrivo vediamo cosa mi dice però non ci hanno ancora mandato nessuna comunicazione per le sbandolate quindi forse non hanno ancora deciso non lo so magari aspettano dopo le fiere non ho idea però gli chiedo I promise e settimana intensa pure questa oggi abbiamo fatto un bel po' di ordini ma ne rimangono ancora parecchi e domani mattina sono da sola quindi vi chiedo scusa ci sarà un po' di rallentamento ulteriore nella gestione degli ordini perché domani mattina sarò da sola e appena ci consegnano Cocoa mando avanti quelli perché ci sono tanti ordini che sono qui in attesa solo delle cose di Cocoa per poter partire e quindi facciamo liberare questi ordini così che poi possano riprendere eventualmente spazio con una nuova scatolina all'interno del negozio per ora quindi io vi lascio vi rimando alle novità sul sito quindi Spellbinders Cocoa che non sono più in preordine e tanto arriveranno domani quindi possiamo assolutamente completare tutti gli ordini se voleste finire le cose di Natale io mi sento autorizzata a poi usarle per il December Daily e a riordinarle Mintai trovate i preordini che completeremo domani perché mancano le cose in MDF ma non vi preoccupate che domani lo sistemiamo non vi lasciamo assolutamente senza quel preordine tanto in ogni caso inizieranno a spedire da fine ottobre in poi quindi secondo me avremo il tutto i primi di novembre per non farci mancare niente quindi per ora vi saluto e uno dei prossimi live vi interrogo sondaggiando vi sondaggio rispetto ad una serie di cose che sto facendo per il prossimo anno sabato ho finito le carte e gli abbellimenti di gennaio del prossimo anno e potrei adesso lo dico qui per febbraio del 2025 portare una collezione ho trovato delle grafiche che molto ricordano la Beautiful Greenery che non vi è piaciuta per niente quindi potrei giocare con quei colori lì e con una roba che la ricorda magari faccio felice molti vediamo la butto lì poi vi interrogerò sul resto sappiate che sto lavorando vedo Daria al timbro dell'acetato di settembre sto solo cercando di capire di che dimensione abbiamo necessità di farlo questa è una roba su cui vi devo sondaggiare perché è molto articolato il timbro e quindi vediamo non so piccolo secondo me è impossibile da colorare per me è impossibile da colorare però potrei fare delle gran belle macchie assolutamente più grande ci serve praticamente il tavolo di vetro della sala per poterlo timbrare e quindi non lo so vi interrogo in questi giorni faccio un po' di prove di misure e poi vi sondaggio ma ho un sacco di cose su cui sondaggiarvi quindi bisogna solo aspettare un giorno in cui non c'è tutto questo ambaradan di roba che è arrivato non ci sono così tanti ordini non devo smistare un sacco di prodotti di coccoa che sarà difficile trovare una giornata così però sappiate che poi dobbiamo riunirci e affrontare la delibera su diversi su diversi argomenti rispetto al prossimo anno tra l'altro mi è anche venuto in mente un compito cioè è venuto in mente la psicologa un compito per il prossimo anno a cadenza mensile che sarebbe molto carino un po' sulla scia dei compitini che abbiamo fatto che abbiamo fatto in questi in questi giorni insomma a seguito di alcune di alcune esternazioni sul gruppo di alcune condivisioni insomma di momenti che si percepiscono come un po' poco creativi mi è venuta in mente una cosa che sarebbe molto carina da fare è molto da psicologa quindi non lo so magari ad alcuni di voi piacerà alcuni di voi mi diranno ma da che e purtroppo la psicologa vive in me mi parla all'orecchio e quindi che dobbiamo fare però vi sondaggio poi su questo oggi direi che abbiamo già visto e fatto abbastanza rifatevi gli occhi sono arrivate cose meravigliose sono contentissima e io inizierei già a fare il December Daily oggi però non ho le carte quindi vabbè grazie a tutti buon pomeriggio ciao